Per non dimenticare la ricorrenza del 27 gennaio, giornata della memoria Schifani vicini a chi ha pagato il prezzo della violenza, muore al Sant'Elia dopo un incidente stradale, nominati i commissari Irsa Peasi della Sicilia occidentale, Caltanissetta bilancio partecipativo, l'esito delle votazioni. Bentrovati in questa edizione del nostro telegiornale. Per non dimenticare la ricorrenza del 27 gennaio, consegna di medaglie in prefettura. Il giorno della memoria è una ricorrenza celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell'olocausto. Presso la prefettura di Caltanissetta, venerdì mattina alla presenza del prefetto Chiara Armenia, il sindaco Roberto Gambino e i sindaci di Riesi, Sangataldo, Mazzarino, Niscemi e Sommatino e le forze dell'ordine, si è svolta la consegna delle medaglie d'onore agli ex deportati. Le medaglie sono state consegnate ai parenti delle vittime, 7 di Riesi, 4 di Sangataldo, 2 di Mazzarino, 1 di Niscemi e 1 di Sommatino. È una giornata molto emozionante, particolare, perché non può essere di gioia piena, ma è una giornata di ricordo e di riflessione su una storia veramente assurda. Sono stati commessi crimini che sono indicibili, quindi abbiamo l'obbligo, come ci dice e ci ricorda il presidente Mattarella, di ricordare, ma anche di capire che ancora oggi ci può essere razzismo, c'è razzismo contro gli indifesi, i disabili, gli omosessuali, tutte le categorie che noi consideriamo diverse da noi. Ecco, dobbiamo lavorare anche per questa eguaglianza, quindi è vero che non siamo più in quei momenti, quei momenti sono passati, ma ricordiamo per evitare che quel brutto passato ritorni. Oggi sono molto molto onorato di essere qui, di rappresentare la mia città e soprattutto sono onorato dei riconoscimenti che sono stati fatti ai nostri concittadini, ai miei concittadini di Riesi, che anche se non più in vita, non più presenti, abbiamo potuto consegnare questi riconoscimenti ai loro familiari. Non finiremo mai di essere grati a queste persone per quello che hanno fatto, perché molti lo hanno fatto per scelta, come si diceva oggi, quindi l'hanno fatto per cercare di contribuire alla nascita della nostra democrazia affinché nella vita non ci potesse essere più quei sorprusi, tutte quelle situazioni, tutte quelle condizioni che hanno portato alla Seconda Guerra Mondiale, che hanno portato allo sterminio di parecchi, di moltissimi ebrei, ma come si diceva oggi anche di tantissimi, tantissimi italiani oppositori politici. Speriamo che questo non succeda più, è questa giornata di memoria, questa giornata di ricordo. Noi la dobbiamo ancora tramandare ai nostri giovani, sia quelli già in vita, ma anche a quelli che verranno, perché questa è una giornata molto molto importante che tutti dobbiamo ricordare. È importante ricordare questa giornata, è importante far sì che questa giornata venga concretizzata in fatti concrete. La consegna delle medaglie è proprio questo, significa proiettare la giornata della memoria dando importanza, riconoscendo importanza a quelli che sono i protagonisti, i protagonisti di un sacrificio, un sacrificio su cui si basa la nostra Repubblica, su chi si basa la nostra libertà. Questa giornata è davvero molto emozionante, perché ricordare il mio genitore o i parenti degli altri oggi presenti, le vicissitudine che hanno vissuto, due anni di prigionia, è un momento davvero triste ma gioioso perché ricorda le figure dei nostri parenti, nel mio caso la figura di mio padre. È una vicenda, questa della quale mio padre raramente parlava, proprio perché in lui l'emozione era forte e i ricordi erano molto tristi. Però una cosa ci ha insegnato è di tenere in particolare attenzione le cose importanti, serie della vita di ciascuno di noi, non tralasciando le cose futili perché ci vogliono anche quello, ma dando il giusto valore alle cose importanti. Questo penso che sia il messaggio che il mio padre mi ha lasciato e ha lasciato ai miei fratelli. Per la giornata della memoria il presidente della regione Schifani dichiara vicini a chi ha pagato il prezzo della violenza. Come ogni anno sono tante le iniziative in tutto il mondo legate alla giornata della memoria in cui si commemora la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa avvenuta il 27 gennaio 1945. Il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, ha voluto esprimere un sentito messaggio di vicinanza alle comunità ebraiche residenti in Sicilia e alle famiglie di tutti coloro che hanno pagato il prezzo della violenza, della discriminazione e dell'intolleranza. Anche la Sicilia, ha continuato il governatore, è stata teatro tra il 1938 e il 1945 di quelle profonde ingiustizie che hanno segnato per sempre le sorti di ebrei, italiani e stranieri, ma anche di numerosi siciliani che furono catturati e deportati nei campi di concentramento. È impegno solenne di questo governo prevenire e combattere ogni germe di razzismo che possa insinuarsi nella nostra comunità, promuovendo quanto più possibile la conoscenza della storia e un'informazione che si richiame ai valori della solidarietà, della convivenza e della tolleranza, gli unici, ha concluso Schifani, che possano dirsi alla base di una società giusta e solidale. Una giovane muore all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo un incidente stradale. Era stata ricoverata il 12 gennaio in gravi condizioni. È deceduta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Dopo 14 giorni di agonia, Carla Interlandi, la ragazza di 23 anni, rimasta vittima di un incidente sulla strada statale 117 bis. Nel drammatico sinistro, tra un camion e un auto, la zia della ragazza, l'insegnante di Acate, Maria Carmela Di Bernardo, è deceduta sul colpo. La ragazza, invece, è stata trasportata in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta, dove lo stesso giorno dell'incidente è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per tentare di ridurre la grave emorragia cerebrale. Nelle ultime settimane, il personale medico del reparto di rianimazione ha tentato di tutto per tenerla in vita, ma i traumi riportati in seguito all'incidente sono stati troppo gravi. Parliamo di attività produttive. La regione ha nominato i commissari di IRSAP e ASI della Sicilia occidentale, che comprende Palermo, Trapani a Grigento, Caltanissetta e Gela. Via Libera, dalla Giunta Schifani, ha due nomine chiave nell'ambito delle attività produttive. Si tratta di Marcello Gualdani, che diventa commissario straordinario dell'IRSAP, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, e di Michele Cimino, neocommissario liquidatore e consorsi ASI della Sicilia occidentale Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela. Entrambe le nomine sono state proposte dall'assessore regionale per le attività produttive, Edita Maio. Le due nomine, commenta l'assessore, sono il risultato del lavoro del governo Schifani, per assicurare una soluzione efficace nella direzione dell'azione di semplificazione amministrativa già intrapresa. I due ruoli saranno ricoperti da uomini di mia fiducia, politici di lungo corso, che hanno ricoperto numerosi incarichi amministrativi. Sono convinto che i due nuovi commissari, che saranno supportati da un team di legali ed esperti che collaboreranno a titolo gratuito, faranno un ottimo lavoro contro il malaffare e la corruzione, a favore della trasparenza e della buona amministrazione. Marcello Gualdani, ex commissario straordinario dell'OIACP di Palermo e vicepresidente nazionale della Federcasa, prende il posto di Giovanni Perino, che per anni ha rivestito il ruolo di commissario ad acta. Michele Cimino, avvocato, è stato assessore più volte e attualmente è presidente dell'AMAT, l'azienda municipalizzata per i trasporti di Palermo. Caltanissetta, bilancio partecipativo, l'esito delle votazioni delle proposte progettuali. Non c'è più tempo per esprimere la propria preferenza in merito alle proposte progettuali per il bilancio partecipativo 2022. È scaduto infatti il 22 gennaio 2023 il termine per la votazione e adesso è stato pubblicato sul sito del Comune Nisseno l'esito. Poco più di 850 voti in totale espressi e 5 progetti più votati, 4 appartenenti all'area tematica cultura e uno allo sport. Ad ottenere più voti è per l'esattezza 222 la proposta progettuale sulle ali del successo dell'Associazione di promozione sociale sulle ali della musica. Al secondo posto con 178 voti per corsi di arte urbana dell'Associazione culturale Creative Spaces. Terzo posto con 121 voti per il progetto Ti racconto Caltanissetta dell'Associazione scientifica Ollus Ritmamente. Quarto posto per la proposta progettuale legata allo sport dal titolo senza confini riprendiamo a giocare insieme dell'SD Polisportiva Nissena di Caltanissetta che ottiene 64 preferenze e infine 61 per agape famiglie e disabilità al centro dell'educatrice professionale socio-pedagogica Jessica Napoli. La somma dei costi dei progetti vincitori e dunque ammessi al finanziamento raggiunge l'intera cifra assegnata al bilancio partecipativo 2022 e cioè 40.000 euro. Ciascuna proposta progettuale infatti doveva prevedere un costo massimo di 8.000 euro e quindi stando all'avviso non ci sono proposte progettuali da inserire a scorrimento di graduatoria, si legge, poiché l'importo è stato coperto in totale. Parliamo adesso dei forestali. L'assessore regionale San Martino ha dichiarato stanziamento di 22 milioni di euro per l'adeguamento dello stipendio e il servizio. È arrivato il via libera da parte della Commissione Ars all'aumento degli stipendi per i forestali. Ha espresso soddisfazione l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino per il lavoro della Commissione bilancio all'Ars che ha approvato l'articolo della finanziaria con lo stanziamento di 22 milioni di euro per l'adeguamento dello stipendio e dei forestali, una misura che restituisce dignità a questi lavoratori, ha detto, è un primo segnale importante del nuovo corso del governo Schifani. L'attenzione da parte mia è massima. Un primo importante passo è stato raggiunto, anche grazie al dialogo con i sindacati. Adesso la manovra procede a spedita per l'approvazione in aula. Non si è fatta intanto attendere la replica dei lavoratori forestali con Antonio David, operaio e responsabile del sito di Forestali News, che definisce la manovra un contentino e che a un aumento di 50 euro non risolverà i problemi. Certamente è ben accetto l'adeguamento contrattuale dovuto a tutti noi forestali, dopo anni di disparità, anche rispetto ai colleghi delle altre regioni, con una non applicazione del contratto nazionale, ma non è questo contentino, ha concluso, che ci aspettiamo dalla nostra regione. Sanità. Assemblea cittadina mercoledì a Caltanissetta. Iniziativa dell'Associazione Noi per la Salute. L'Associazione di Promozione Sociale Noi per la Salute di Nanselmi organizza un'assemblea cittadina che si terrà mercoledì 1 febbraio alle ore 18 presso la Casa delle Culture del Volontariato. Durante l'incontro si parlerà dell'incontro avvenuto dal presidente Giuseppe Pastorello con l'assessore regionale della salute Giovanna Volo e si presenterà il programma annuale di lavoro che l'associazione intende svolgere. Avremo la possibilità di mettere a conoscenza dei partecipanti sia i contenuti del colloquio che abbiamo avuto il 14 gennaio con l'assessore regionale alla salute, alla quale abbiamo esposto alcune problematiche della nostra provincia, problematiche sanitarie, ma al contempo alla quale abbiamo anche proposto delle soluzioni operative che anche il giorno 1 febbraio avremo il piacere di mettere a conoscenza dei partecipanti e al contempo in questa assemblea cittadina affronteremo anche e illustreremo il nostro programma di lavoro per il 2023 che sarà certamente un programma incentrato su quelle che sono le maggiori problematiche sanitarie della provincia e per ciascuna di queste avremo anche il piacere di proporre delle soluzioni operative e comunicheremo anche l'entrata in funzione di uno sportello e di un centro per l'ascolto con il quale abbiamo l'intenzione di accogliere tutte quelle che sono le necessità, i bisogni dei cittadini in termini di assistenza sanitaria affinché possiamo dare un nostro contributo nel assistere gli stessi nel percorso di salute che dovessero avere necessità di perseguire. Iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024 fino al 30 gennaio La procedura sarà online per tutte le classi delle scuole primarie e secondarie È il 30 gennaio il termine entro cui iscriversi all'anno scolastico 2023-2024 Si effettua l'iscrizione online tramite il portale del Ministero dell'Istruzione accedendo con le credenziali SPID, cioè quelle del sistema pubblico di identità digitale e CIE, cioè la carta d'identità elettronica Questa procedura va eseguita per tutte le prime classi delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado e per percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle regioni e le scuole paritarie che hanno aderito alla procedura telematica La domanda resta cartacea per la scuola dell'infanzia Potrà essere presentata una sola domanda di iscrizione per ciascun studente o alunno Si possono indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti disponibili Il sistema iscrizioni online avviserà le famiglie in tempo reale a mezzo posta elettronica e tramite l'app Io dell'avvenuta attivazione del servizio e consentirà anche di seguire l'iter della domanda di iscrizione Maturità 2023 Annunciate le discipline della seconda prova scritta L'esame di maturità sta per tornare come lo abbiamo sempre conosciuto Dopo tre anni scolastici caratterizzati dall'emergenza del coronavirus l'esame più atteso e temuto dai ragazzi tornerà a svolgersi nella normalità come accadeva prima della pandemia La prima prova scritta d'italiano comune a tutti gli indirizzi di studio sarà mercoledì 21 giugno 2023 Poi ci sarà la seconda prova scritta riguardante le discipline relative ai singoli percorsi di studio e infine il colloquio Le discipline scelte per la seconda prova scritta variano a seconda dell'indirizzo della scuola Si va dal latino per il liceo classico alla matematica per lo scientifico fino alla lingua e cultura straniera per il linguistico ma anche teoria, analisi e composizione per il liceo musicale economia aziendale e geopolitica nell'articolazione e relazioni internazionali per il marketing o tecniche di produzione e di organizzazione per l'indirizzo produzioni industriali e artigianali La scuola tenta di tornare alla normalità a margine di anni condizionati dalla presenza della pandemia che ha stravolto anche alla consuetudine degli istituti scolastici Da mercoledì 12 giugno si parte quindi con quella naturale adrenalina che soltanto l'esame di maturità sa raccontare Parliamo adesso di sport partendo dal calcio Eccellenza domenica pomeriggio Nissa sul campo della Parmonval Trasferta a Palermo per la Nissa dove i biancoscudati affronteranno i padroni di casa della Parmonval Sulla carta potrebbe risultare una partita facile per la combagine nissena visto l'ultimo posto in classifica della squadra palermitana Ma a renderla delicata e insidiosa sono le due sconfitte consecutive in campionato a Marineo e domenica scorsa nel derby perso l'ultimo minuto contro l'Akragas al Tomaselli a rendere questa partita come un'ultima chance in chiave playoff Gli uomini di Alessio Sferrazza hanno lavorato intensamente durante la settimana e vogliono uscire dal francolo monaco di Palermo con una bella vittoria per ritrovare lo spirito giusto che nonostante i risultati delle ultime partite i biancoscudati hanno sempre ben figurato in campo Rosa quasi al completo per la Nissa a parte qualche acciaccato e lo squalificato di Biasi a centrocampo mentre la Parmonval, reduce dalla sconfitta di Mazzara cercherà di dare filo da torcere alla combagine nissena cercando di non essere la vittima sacrificale di turno Eccellenza, gironea, diciannovesima giornata Castellammare, Resuttana, San Lorenzo Parmonval, Nissa Atragas, Casteldaccia Cus Palermo, Enna Nuova città di Gela, Don Carlo Misilmeri Oratorio Sancire, Giorgio Sciacca Profavara, Mazzara Mazzarese, Leon Fortese Calcio Serie D dopo la sconfitta di Canicattì la San Cataldese cerca riscatto alla Mezzia Terme Archiviata la sconfitta contro il Canicattì per la San Cataldese è tempo di riprendere il virtuoso percorso interrotto domenica scorsa al Comunale di Ravanusa il volto del riscatto alla fisionomia della Mezzia Terme che ospiterà Iverda Maranto domenica prossima alle 14.30 nel match valido per la ventunesima giornata del girone I di Serie D una partita con la bilancia del pronostico che pende in favore della squadra calabrese terza in classifica a un solo punto dalla seconda piazza e con 12 lunghezze in più rispetto ai siciliani ma che potrebbe riservare qualche sorpresa la San Cataldese infatti durante il campionato ha dimostrato di non temere avversari sulla carta più forti e con obiettivi diversi rispetto alla salvezza ci sono tutti i presupposti quindi per un appuntamento delicato reso ancora più interessante dalla debacle dei padroni di casa sconfitta a domicilio domenica scorsa dalla Cireale questo è il palinsesto completo della ventunesima giornata del campionato di serie D girone I Vibonese Catania si giocherà in anticipo domani sabato 28 gennaio alle 14.30 mentre a Cireale Castrovillari, Trapani città di Sant'Agata, Licata Mariglianese, Santa Maria Cilento cittanovese, Ragusa Paternò, Realla Versa Canicattì, San Luca Locri e San Cataldese la Mezzia Terme saranno disputate domenica 29 gennaio alle 14.30 basket l'invicta Caltanissetta si prepara all'impegno di Cefalù il Cusn sarà impegnato al Palacanizzaro contro l'Olimpia fine settimana importante per le due squadre nissene di basket invicta e Cusn l'invicta capolista del girone B di serie D scenderà sul campo del Cefalù per una domenica decisiva infatti gli uomini del coach Spena vincendo sul parquet di Cefalù e in concomitanza con gli altri risultati potrebbe già festeggiare con ben tre giornate di anticipo la propria promozione con un ruolino di marcia da grande squadra e con tanti giocatori che si sono messi in luce durante l'arco della stagione basket serie D girone B undicesima giornata Messina Virtus Trapani Cefalù invicta Sant'Agata Leonardo da Vinci riposa capo basket impegno casalingo invece per la Cusn che domenica sera al Palacanizzaro incontrerà l'Olimpia dopo la sconvitta di domenica scorsa a noto contro la Salus Sport i ragazzi capitanati da Davide Barbera cercheranno di centrare la vittoria e per questo cercheranno anche il sostegno del fattore campo la Cusn può sentirsi comunque soddisfatta della propria stagione dove sta mettendo le basi per presentarsi al meglio nel prossimo campionato dove vorrà recitare un ruolo da protagonista basket promozione girone D non aggiornata la Fenice Basket Polisportiva Salusport Cusn Olimpia riposa nuova città di Gela questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meglio le informazioni di pubblica utilità ben trovati in un aggiornamento con la giornata di sabato perché ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo centrale in lento spostamento da Sud Italia verso la Grecia sarà responsabile però ancora di qualche fenomeno come possiamo notare sul medio-basso versante Adriatico il basso Tirreno e in generale la Sicilia e la Sardegna orientale in sintesi ecco qui la nuvolosità regolare attesa ancora al centro-sud mentre la Toscana ed il nord saranno maggiormente protetti dall'alta pressione con più sole tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Scarantino Via Paolo Emiliani Giudici Servizio notturno Buonasera Via Edmondo De Amicis Grazie a tutti